Eravamo presi dal... Enrico, scusa, puoi rivelarci quanto ti è costato qui la stampa del... 20 centesimi. Oggi siamo in piazza per tenere chiarezza sulla pressione dell'inquinamento. Il governo sta aumentando le tasse di proprietà anche nel 60% per una volta uno zero. Un'altra cosa importante. Come l'anno scorso a novembre abbiamo dovuto minacciare di scendere in strada, siamo dovuti scendere in strada perché qualcuno si muoveste. Infatti questa mattina i nostri rappresentanti di fotocivismo dell'associazione Amici Eurozero sono stati accolti dall'assessore alla sicurezza della regione Lombardia. Hanno detto che guarderanno per fare la sua questione. Aspettiamo, facciamoci un nodo al passalezzo. Ci invitano a un tavolo di trattativa. Se non ci sarà un'altra mossa di un superplacare un po' gli anni. Perché non so una che io non ti avivete. Un'altra questione, l'ultima. Ma se uno paga il ticket, come funziona la storia del blocco ma se paga... Se uno paga il ticket vuoi inquinare. Esatto. Ma allora non ci sono più i blocchi... No, però non è troppo perché... Ma come fa uno? Come blocca? E' un'unicazza, hai capito? Ognuno vuole la sorpresa. Non si capisce allora cosa fa uno. Ognuno vuole la sorpresa. Con due. La regione, comandata da Dandamirino che se ne va in giro con la macchina idrogeno. Quello che ha detto che nel 2005 tutte le macchine dovrebbero... E' sempre lui. Quello che dovrebbe essere tutto idrogeno, le macchine... Ma quando si fuma... Arriviamo anche l'idrogeno. Lui blocca per far viaggiare l'economia. Se ne va in giro su un motorino nuovo della Piazza, se ne va in giro sullo scooter elettrico. Gli regalano le macchine, i motorini. E io pago. Noi possiamo cambiare moto secondo lui. Il governo ti aumenta le tasse. E trovi che le tasse vanno alla regione. La regione ti tocca. E poi se ti puoi muovere a Milano devi anche pagare i ticket. Però sono le regioni imperiali, le regioni perché ne va in giro. Sì! Grazie a tutti. 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 Ciao. Ciao. Ciao.